Non abbiamo parlato fino ad ora, ma li ho accennati all'inizio, e sono i pianeti erranti. Durante la formazione di sistemi, alcuni di questi, se non cadono sulla stella o non si scontano con altri pianeti, oppure non si ossestano su orbite ellittiche, possono essere completamente espulsi dal sistema, dall'integrazione gravitazionale con i corpi più grandi, ad esempio dei giganti cassosi che migrano verso la zona interna del sistema con orbite a decadimento, e possono disperdersi nello spazio interstellare. Quindi probabilmente questi pianeti che si sono formati durante i processi di formazione normali di un sistema planetario sono stati scagliati, lanciati fuori nello spazio interstellare, ed oggi vagano senza una stella di riferimento, così nel cosmo, girando insieme alle stelle attorno al centro galattico. Si chiamano pianeti erranti. Ancora non sono stati osservati, perché anche se possono essere molto grandi, sono avvolti nell'oscurità più totale, e quindi non emettendo luce e non riflettendo nessuna luce non è possibile osservarli. Ma le teorie di formazione dei sistemi planetari ne prevedono l'esistenza. Questi pianeti, a loro volta, possono essere ipotetici ambienti ideali alla vita, perché se abbastanza grandi possono conservare per miliardi di anni energia geotermica all'interno, che può alimentare sorgenti geotermali e mantenere liquida dell'acqua in oceani sotterrani, come avviene in alcuni casi nelle lune ghiacciate dei giganti gassosi del nostro sistema solare. Questo è solamente un estratto della mia lezione sugli asopianeti. Nella lezione completa parlerò della struttura interna delle superterre a confronto con quella della nostra pianeta. Ancora parlerò del concetto di abitabilità di uno sistema, e quindi della zona abitabile intorno al pianeta attorno alla quale i pianeti che vi abitano all'interno possono ospitare acqua sulla loro superficie, come avviene sulla Terra. Poi ancora vedremo i sistemi planetari in formazione osservati e fotografati dall'Hubble, ovvero i dischi protoplanetari attorno alle nuove stelle in formazione. Parleremo degli asopianeti che hanno le caratteristiche simili alla Terra, quindi sia per dimensione che per distanza dalla loro stella, per poter ospitare acqua liquida in superficie, e poi ovviamente parlerò anche della missione Kepler, la missione che da 2009 sta scoprendo migliaia di pianeti in direzione della costellazione del Cigno. Potete trovare tutta questa lezione, la numero 9 del mio corso di astronomia Gli Esopianeti, sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie. Grazie.